Il prestigioso attestato formale con valore internazionale rilasciato dal CIE Cambridge University International Examination che attesta le competenze disciplinari in lingua straniera è stato conseguito da 14 studenti del liceo scientifico Enrico Fermi di Cosenza. I ragazzi oggi hanno sostenuto la prova d'esame della certificazione di Cambridge International che riguarda lo studio della matematica in lingua inglese. L'hanno fatto per due anni, alla fine di questo corso biennale sostengono degli esami e avranno alla fine un attestato, una certificazione che potrà essere speso nel loro curriculum all'università e così via. La prova è durata un'ora e mezza, c'è stata un'ispettrice inglese dalla Cambridge che ha verificato che tutte le prove, tutti gli adempimenti fossero perfettamente eseguiti secondo le regole. Noi siamo l'unica scuola della Calabria ad essere sede della certificazione internazionale. Che cosa significa questa certificazione internazionale Cambridge? I ragazzi possono studiare delle materie in lingua inglese e alla fine queste materie corrispondono alle materie che i ragazzi inglesi studiano per ottenere il diploma di scuola superiore inglese. Corrispondono al General Certificate of Education, international perché si svolge nei paesi europei dove questi progetti vengono svolti.